Le misure che si stanno adottando sono di molto superiori al pericolo reale. Davanti a un pericolo che non c'è. Un'emergenza che non c'è. Non c'è quell'emergenza. È un procurato allarme. E io ritengo che in questo momento in Italia il rischio di contrarre questo è zero. E io di chi mi devo fidare? Sì, lo so a che cosa state pensando. L'infezione da coronavirus colpisce le vie respiratorie, ma non è affatto facile il contagio. La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi. E io di chi mi devo fidare? Dobbiamo interrompere una catena. L'ha detto l'OMS che questa è un'infezione prima mediatica. Però ritengo una situazione già messa ben sotto controllo dalle nostre autorità sanitarie. E io di chi mi devo fidare? Una condizione di sicurezza. Lo 0,1% di mortalità sui casi registrati in Italia. E la mortalità? Perché si è parlato molto. La mortalità probabilmente sovradimensionata al 2%, più alta della normale influenza, ma ben minore di altri guai come la SARS o Ebola o il coronavirus del sindrome respiratoria medio orientale. E io di chi mi devo fidare? Il nostro medico di azienda che è finito l'animazione ha continuato a dire che eravamo eccessivi. Che ci preoccupavamo per troppo, è solo l'influenza. Le mascherine servono, sì? Non servono, in Italia non servono. Per quanto riguarda le mascherine, come vedete io non porto la mascherina. Normalmente non la porto. E io di chi mi devo fidare? Prendevi l'attacchipirina, scendeva di 3-4 gradi. La nuova pizza italiana che va fare il tour del mondo. Bisogna dire con grande chiarezza, che è una patologia banale. La nuova pizza italiana che va fatta! La nuova pizza italiana che va fatta! Grazie a tutti.